Cosa abbiamo in macchina che possiamo utilizzare per scivolare allora? Applichiamo una flicchica, uno slicchino? Un bop? Se non ci scantiamo? Eh? Si, bop. Non posso tenere un'altra periglia. No, quello è sicurissimo, è come andare in macchina. Vengo in pace. Vengo in pace. Gellosi? Si. Oh! Un sacco! Ma lui non è un ingegnere. Ma perché fa questo rumore, questa telecamera? Chissà dove sta il Gato Rosario. Le montagne le hai fotografate già? Alla prossima. Grazie a tutti. 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 8 cm. Grazie a tutti. 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 21 cm. Grazie a tutti. Guarda se ci sono pesci. Grazie a tutti. Metti l'occhio. Grazie a tutti. Non è possibile. Questa è un'altra. Il vetro è un'altra. è un'altra. E' un'altra. è un'altra. se ne è un'altra. Se ne è un'altra. 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 Grazie a tutti.